Tutto pronto? Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli della seconda corsa del pomeriggio. Dall'interno parte bene Ind Air. L'altro che parte bene è sicuramente al centro della pista Good King. Lungo la corda c'è anche Gigli con la giuba rossa del cap nero. Tra i cavalli la femmina è Alfire. Andiamo al centro della pista dove ci sono anche Night Fox. Ancora più all'esterno Cava Scura. Dietro a questi Cesar Man. Poi trova spazio anche Rebel Music con il primo parziale che è stato vehemente Night Fox. Leggero vantaggio lungo la corda nei confronti di Good King. Si prepara all'esterno Cava Scura. Dietro a questi c'è anche Cesar Man. Lungo la corda ha ritrovato Verve Ind Air. Questi quattro che se la vanno a giocare con Good King che prova a premere sotto frusta da parte di Dario Vargiù. Dal centro della pista Good King si sta involando verso la meta. All'interno ancora vitale Ind Air che prova a recuperare qualcosina con Good King contro Ind Air. Ma Good King mantiene qualcosa di vantaggio rispetto a Ind Air. Dario contro Dario. Ancora una volta. Stavolta a vincere è stato Dario Vargiù. In sella Good King. Rivediamo un po' il tutto con l'aiuto dello stretto. Qui intanto transita sul traguardo Gigli che ha fermato a palo lontano. Non dovrebbe essere nulla di particolarmente serio ma va detto perché era uno dei più attesi. Vince comunque Good King dal centro della pista. Era troppo buona la linea che poi è stata ancora una volta molto significativa. Qui è molto più stretta di quanto non si creda. Ovviamente c'era il dubbio legato alla presa diretta e questa inquadratura che cancella e demenda tutto quello che abbiamo detto fino a qualche istante fa perché è molto più stretta di quanto non si creda. Ind Air con l'appoggio della corda che forse addirittura beffa il rivale sul traguardo. Eh sì, qua dobbiamo assolutamente revisionare il tutto anche in quella che era la nostra percezione dalla presa diretta. Ricordiamo che la telecamera non è in asse, quindi bisogna sempre attendere l'ufficializzazione del risultato. Vedete che Dario Vargio guarda il suo rivale. 6-5-5-6 è un'idea tutta da sviluppare in sede di giudice d'arrivo al terzo posto sicuramente Knight Fox. La presa diretta ovviamente ha dato un'idea che poi è stata completamente cancellata dalla ripresa stretta dove ha guadagnato tantissimo. Ind Air 6-5-5-6 chiaramente c'è materia per il giudice d'arrivo da Capannelle. Per ora è tutto.